Musica Buonasera e benvenuti al telegiornale delle 20 e 30 in apertura la vicenda dei migranti che a bordo della nave Aquarius proseguono il loro viaggio verso la Spagna dove sono attesi tra circa due giorni sentiamo Massimiliano Cochi Superate le bocche di Bonifacio tra Corsica e Sardegna nave Aquarius naviga ora in mare aperto verso Valencia dove dovrebbe arrivare tra due giorni Il mare torna a essere agitato Questa sarà la sesta giornata a bordo per i nostri passeggeri la settima da quando hanno incominciato il loro viaggio sui gommoni A bordo il team di Medici Senza Frontiere continua a curare le gravi ustioni che molti migranti hanno riportato a causa del gasolio e dell'acqua salata e proprio dal racconto dei superstiti si è scoperto che due ragazzi un sudanese e un nigeriano sarebbero dispersi presumibilmente annegati durante l'intervento di soccorso avvenuto di notte e per questo come testimoniano queste immagini ancora più difficile Di migranti è tornato a parlare nell'udienza ai maestri del lavoro in Vaticano anche Papa Francesco spiegando che la santità non riguarda solo lo spirito ma anche i piedi per andare verso i fratelli e le mani per condividere con loro auspicando che le beatitudini di Gesù siano di insegnamento Insegnano a noi a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia Intanto c'è un rapporto curato da Oxfam Italia, dalla Diagonia Valdese e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione che rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra Italia e Francia Denuncia infatti gli abusi della gendarmeria francese alla frontiera con l'Italia a Ventimiglia e Bardonecchia ragazzini di 12 anni cui vengono tagliate le suole delle scarpe o viene rubata la sim del telefonino che vengono detenuti in celle senza cibo e senza coperte costretti a tornare a piedi in Italia o fatti salire sui treni falsificando la loro età e le loro dichiarazioni sulla volontà di restare in Francia maltrattamenti fisici e verbali il tutto al di fuori di ogni legge francese, italiana ed europea E la vicenda della nave Aquarius è stata tra gli argomenti al centro del vertice di oggi tra Italia e Francia Tony Distesi tra il presidente Macron e il premier italiano Conte dopo le tensioni degli ultimi giorni sulla questioni migranti Sentiamo Augusto Cantelmi Una stretta di mano per sancire l'intesa ritrovata che non significa totale sintonia su alcuni punti Roma e Parigi restano lontane Il premier Conte dopo le tensioni sulla vicenda Aquarius che avevano messo in forse lo stesso vertice va a Parigi per riallacciare i rapporti con Macron necessari per la battaglia di modifica del trattato di Dublino e Conte al presidente francese illustra quella che sarà la proposta italiana, ossia l'istituzione di hotspot nei paesi africani d'origine, dalla Libia al Niger, per chiudere la rotta verso il Mediterraneo Dobbiamo creare centri di protezione europei già nei paesi di origine o di transito Da parte sua Macron riconosce l'enorme sforzo dell'Italia nell'accoglienza cammineremo mano nella mano per modificare il regolamento sui richiedenti asilo concordanza di vedute e obiettivi comuni dunque tuttavia le differenze permangono e potrebbero a breve tornare alla luce Macron boccia l'ipotesi di asse dei volenterosi cara Salvini, tra Roma, Berlino e Vienna nella storia non hanno mai portato fortuna a chiose il presidente francese che poi quasi invita il premier italiano a smarcarsi dalle posizioni onstransiste di Salvini e rivendicare il ruolo di guida del governo invito a cui Conte risponde così Sono pienamente condivise fermo restando che me ne assumo personalmente la responsabilità E ora con la cronaca andiamo a Messina per una storia drammatica due fratellini di 10 e 13 anni sono morti oggi sono morti, rimaste vittime del rogo divampato nell'appartamento in cui vivevano forse un cortocircuito all'origine dell'incidente vediamo il servizio Ieri sera Francesco Filippo Messina, 13 anni era andato a letto con il pensiero della seconda prova di esami per la licenza media non poteva immaginare che da lì a poco, in piena notte si sarebbe trovato costretto a fronteggiare le fiamme che avevano invaso la sua abitazione, al centro di Messina Mamma Chiara e papà Giovanni erano riusciti a portare in salvo i figlioletti più piccoli Tancredi e Francesco, di 6 e 8 anni lui era rimasto accerchiato dal fuoco nella stanza che divideva con il fratello Raniero, 10 anni che ha cercato di proteggere con un gesto disperato secondo una prima ricostruzione Francesco Filippo ha tentato di trovare una via di scampo trascinando il fratellino, mentre i genitori erano costretti a restare giù in strada perché il fuoco faceva da sbarramento via via che trascorrevano i minuti la speranza di rivedere vivi i due ragazzi si affievoliva sempre più alle 7 la triste conferma Francesco Filippo e Raniero erano morti carbonizzati drammatica la ricostruzione di Ferdinando Rizzo, cugino delle vittime Pensavo che stessero giocanti perché ho sentito la voce dei bambini che gridavano e pensavo che si stessero rincorrendo ho detto ma è possibile a quest'ora? poi ho sentito battere la porta, abbiamo aperto il portone, la porta di casa siamo stati letteralmente invasi, c'erano appunto i miei cugini con questi bambini e siamo stati invasi dal fumo, già proprio altissimo tant'è che per respirare quando ho aperto mi sono dovuto abbassare perché c'era il fumo altissimo nell'appartamento io sono sceso poi dal cornicione, sono passato nel balcone per prendere i miei figli i due figli e gli altri bambini di Gianmaria e siamo andati nell'altro balcone e abbiamo aspettato poi che arrivassero i vigili del fuoco perché poi era tutto pieno di fumo, non si poteva più stare sgomento ovunque in città ed esami sospesi all'Istituto Verona Trento la scuola frequentata da Francesco Filippo mentre la magistratura ha avviato indagini di rito Tragedia sfiorata invece ad Ancona sei poliziotti in servizio sono riusciti a salvare la vita a due donne rimaste bloccate in un sottopassaggio della città chiuse nella loro auto, sommerse dall'acqua Abbiamo raggiunto due degli agenti eroi e allora vediamo insieme il servizio di Barbara Masulli Dai, ce la fate, correte! Bravo, bravo! Queste sono le urla di un bambino in auto con la mamma e il papà fa il tifo per i poliziotti che stanno salvando la vita a due donne madre e figlia rimaste intrappolate nella loro auto sommersa dall'acqua in un sottopassaggio di Ancona A un certo punto dalla macchina scende anche il padre il piccolo si preoccupa, piange ma ormai non c'è più motivo di aver paura gli agenti hanno evitato il peggio Marco Croppo e Simone Cingolani sono stati i primi a raggiungere le due donne L'acqua era molto torbida e comunque sotto era pieno di detriti di pezzi di alberi, insomma tutti i detriti che comunque portava via la corrente quindi è stato molto difficoltoso arrivare fino alla macchina infatti un tratto l'abbiamo fatto a nuoto perché se no non saremmo riusciti neanche ad arrivare La situazione che si presentava al nostro arrivo era drammatica l'autovettura era pressoché sommersa quasi del tutto si intravedevano delle mani delle persone all'interno dell'abitacolo agganciate al montante dell'autovettura Ci è voluta una grande forza per tirarle fuori A rendere quegli attimi ancora più concitati è stata la vista di un seggiolino nella vettura gli agenti temevano ci fosse anche un bambino Poi per fortuna dopo la rottura del vetro abbiamo visto che non era così quindi abbiamo pensato alle donne La paura va trasformata, la paura c'è sempre però va gestita in modo positivo Le due donne erano in stato di shock e ipotermia ma hanno trovato comunque il modo per ringraziare i loro angeli Un gesto che c'è stato fatto, un sorriso, una pacca sulla spalla Sarà un ricordo sicuramente che non cancellerò e non cancelleremo nessuno dalla mente perché è andato per fortuna tutto a buon fine Passiamo alla vicenda giudiziaria legata alla realizzazione del nuovo stadio della Roma e il presunto sistema di corruzione messi in atto dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi che si era giudicato la costruzione dell'impianto Oggi in procura a Roma è stato il giorno degli interrogatori di garanzia per gli arrestati Una delle figure chiave della vicenda, Luca Lanzalone davanti al GIP ha respinto con forza ogni addebito Io nella mia vita non ho mai commesso nulla di illecito ha affermato l'ex presidente della CEA Invece Parnasi in carcere da mercoledì si è avvalso della facoltà di non rispondere ascoltata dal PM che segue l'indagine la sindaca della capitale Virginia Raggi ma solo come persona informata sui fatti Un giovane su 4 tra i 18 e i 24 anni non lavora e non studia a dirlo sono gli ultimi dati diffusi da Eurostat Lavoro che è stato al centro dell'incontro di oggi tra Papa Francesco e la Fondazione Maestri del Lavoro ricevuta in Vaticano Sentiamo Paolo Fucili Il primo diritto umano è la speranza da rendere a chi l'ha perduta giovani soprattutto perché l'umanità e il creato portano in presse in profondità i segni del peccato guerra, violenza, degrado ambientale e quante persone, esclama il Papa, sono escluse ancora dal progresso economico udienza oggi alla Federazione Maestri del Lavoro Lavoratori cioè che brillano per perizia, laboriosità e buona condotta morale recita la legge insigniti del titolo dal Presidente della Repubblica né sicurezza economica né assistenzialismo afferma Francesco assicurano la realizzazione personale Non si può essere felici senza la possibilità di offrire il proprio contributo piccolo o grande che sia alla costruzione del bene comune Ogni persona può dare il suo apporto anzi deve darlo Perciò la società che non promuovesse il lavoro o si disinteressasse a chi ne è escluso si condannerebbe all'atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze Francesco elogia quindi correttezza e trasparenza valori fondativi della Federazione esorta a bandire frode e menzogna parla di carburante spirituale, l'amore per incendiare il mondo con la carità ci siano di guida le beatitudini conclude Senza la comoda illusione che dalla ricca tavola di pochi possa piovere automaticamente il benessere per tutti E adesso una storia lieto fine dopo essere stata sfrattata da una casa popolare lo scorso marzo una signora anziana disperata ha trovato però la generosità di un anonimo benefattore che le ha offerto un nuovo tetto sotto il quale dormire Beatrice Bossi è andata a trovarla nella sua nuova casa vediamo Mi ha fatto sapere, mi ha mandato in un albergo mi ha mandato, mi ha pagato l'albergo per un mese un bel albergo è stata come Ancora si commuove la signora Paola quando racconta la sua favola la chiama così la svolta che ha preso la sua vita dopo essere stata sfrattata da una casa popolare la occupava abusivamente da anni in attesa della lunghissima assegnazione intanto però pagava la luce, il gas e il bollettino che puntuale tutti i mesi il comune le inviava viveva nel quartiere di San Basilio nella periferia nord-est della capitale era marzo quando i vigili urbani suonavano alla sua porta per dare esecuzione allo sfratto lei, 74 anni, sola e con problemi di cuore non sapeva dove andare fino a quando un anonimo benefattore le ha offerto un tetto sotto il quale dormire Quando sono venuta qui mi ha fatto trovare la casa piena di fiori mi ha comprato di tutto tutto, dare pentole mi ha fatto la spesa ho trovato di tutto, di tutto e di più guardi, proprio una cosa, una favola La signora Paola è una rara eccezione a storie che invece nella maggior parte dei casi si concludono con degrado e abbandono nel 2017 sono stati quasi 60.000 i provvedimenti di sfratto emessi dal tribunale in tutta Italia Vergognoso, dicono le associazioni vicino agli inquilini ma ancora più vergognoso è sapere che la casa dalla quale la signora Paola è stata sfrattata a marzo oggi è di nuovo occupata abusivamente A chi gli era stata affidata, assegnata la casa l'ha rifiutata poi vedendo l'appartamento non utilizzato il primo disperato ha tentato di entrarci Quindi ora quell'appartamento è di nuovo occupato? È di nuovo occupato, questo è il paradosso E adesso il minuto D, oggi c'è Carlo Petrini fondatore di Slow Food In questi anni abbiamo imparato a conoscere una comunità indiana che si sta radicando nel nostro paese specialmente nella pianura padana sono gli indiani Sikh Questa etnia è un'etnia molto rispettosa dell'ambiente animale che in questa parte d'Italia si è consolidata e purtroppo in un'altra zona d'Italia nell'agropontino abbiamo una situazione totalmente diversa Gli stessi indiani Sikh sono vittime di un caporalato indecente Perché l'Italia mostra queste due facce? Perché non si colpisce questi imprenditori che sfruttano questa mano d'opera in questo modo? E non si capisce che invece come l'hanno capito nel Nord Italia il lavoro di queste persone è prezioso e può essere utile per la nostra economia E con questo è tutto per il nostro telegiornale Adesso vi lascio a Donatello Vaccarelli al suo TGTG Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti